Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale stanotte in orario 22.6 sarà chiuso il tratto tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A11 un incidente si è verificato in uscita a Prato-Est provenendo da Firenze. Incidente anche sulla diramazione Lucca-Viareggio al chilometro 78-800 tra Lucca-Ovest e Massarosa verso Viareggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!